Autogold.it, additivo professionale Bardal per motori alimentati a GPL, pulisce completamente il sistema di alimentazione GPL recuperando efficienza e prestazioni. Come si utilizza? Va immesso direttamente nella bombola GPL, attenzione è molto importante che la bombola sia sostanzialmente vuota, quindi si mette quando il serbatoio GPL è vuoto. È un prodotto di alta efficacia, ne consigliamo l'utilizzo almeno una o due volte all'anno per mantenere e recuperare efficienza eventualmente perduta del sistema oppure a livello semplicemente preventivo per mantenere perfettamente efficiente il sistema stesso. È un prodotto che trovate nel nostro store autogold.it.